Ben ritrovati e ben ritrovati, si avvicina il fischio di inizio di Juventus-Roma e a tal proposito diamo degli aggiornamenti di formazione che sono coerenti con quanto abbiamo raccontato già questa mattina. Perché tutte le strade portano allo schieramento formato da Szczesne-Trepali, in difesa Gatti-Bremmer-Danilo, a centrocampo Ueam e Kenny Locatelli-Rabbiò-Kosic e là davanti il tandem formato da Vlaovic-Eildiz con quest'ultimo alla seconda partenza dall'inizio consecutiva dopo l'exploit di Frosinone con tanto di bellissimo gol. Quindi chi voleva rivedere il turco dal primo minuto verrà contentato in quanto dalle indiscrezioni raccolte, dalle conferme che provengono da più parti Federico Chiesa verrà gestito e sarà un'importante opzione per la ripresa e poi ovviamente anche in panchina ci sarà Arek Milik, credo a modista affetta con lo stesso Vlaovic. Credo che sia giusto, considero che far partire Ildiz sia quantomeno sulla carta la miglior soluzione possibile perché c'è entusiasmo, questo ragazzo può dare entusiasmo all'Allianz, può divertirsi, può far divertire, può cercare continuità. Sarebbe bellissimo se riuscisse a trovare un'altra rete ma in generale se riuscisse a sfornare una performance produttiva, mettersi a servizio dei compagni, cercare di votare il partito della qualità. Ecco, con Ildiz tra le linee si può giocare anche in maniera un po' più centrale perché lui sa andare molto bene a trovare gli spazi con la giusta intelligenza, ha due piedi che cantano e d'altra parte il gesto tecnico contro il Frosinone parla da solo. E quindi ieri avevamo già capito che potesse esserci odore di conferma, questa mattina lo abbiamo dato in poll e ora praticamente conferme totali sul fatto che sarà lui a spalleggiare la causa di Vlaovic. Sono gli uomini che poi hanno deciso la trasferta proprio di Frosinone. Anche qua banalmente è fondamentale che Dujan possa trovare continuità, sarebbe cosa buona e giusta che riuscisse a segnare nuovamente, però oggi servirà una prova intensa, una prova di squadra. Ci sono importanti esami di maturità da superare, penso a quello di UEA perché è in vantaggio come abbiamo detto su Miretti e quindi se gioca UEA, McKennie fa la mezzala e ti tieni Miretti come cambio insieme a Nicolussi Caviglia per la ripresa. UEA è un giocatore che ha fatto un'ottima pre-season dove mi è sembrato uno di più in palla e subito abbiamo detto è un acquisto azzeccato perché anche come caratteristiche sembra che possa sostituire adeguatamente in chiave progettuale qua in quadrado. Poi un po' di difficoltà, l'ho spiegato anche lo stesso Allegri, provieni da un altro campionato, le solite cose che diciamo, nuova cultura, nuova lingua, nuovi usi e costumi, però io mi aspetto molto oggi da UEA. Per me è una partita che può definirsi spartiacque per la sua seconda parte di stagione. Accetto che possa soffrire difensivamente perché non è che eccella moltissimo in questa situazione, però da UEA pretendo, e ribadisco, pretendo coraggio che cerchi di saltare l'uomo, che provi a creare la superiorità numerica, qualche cross, qualche inserimento, che di abbrio alla fascia destra e quindi spero davvero che ne possa uscire bene da questo incontro perché una buona performance significherebbe provare a scalare gerarchie sebbene lì la defezione sia delle più impattanti perché la squalifica di Cambiaso non è roba di poco conto considerando il rendimento dell'ex Genoa che specialmente nell'ultimo mese è salito decisamente di tono, però non bisogna piangersi addosso, non bisogna vedere chi manca, bisogna provare a cercare di fare il meglio con quelli a disposizione e UEA ha una grandissima chance. La Roma è una grande squadra, al di là di una classifica un po' altalenante, comunque formata da calciatori che con una giocata te la possono decidere su tutti uno che abbiamo conosciuto molto bene, Paolino Di Bala, ma anche Romelu Lukaku, c'è gente che avrà magari un po' la voglia di rifarsi dopo tante critiche penso a Leandro Paredes che qui è stato semplicemente una meteora e nel rapporto ingaggio-rendimento uno dei peggiori centriampisti che io ricordo della storia recente juventina ma proprio per questo dobbiamo preoccuparci perché tendenzialmente poi c'è sempre l'effetto beffa dietro l'angolo, bisogna fare una partita di grande compattezza nella maniera più assoluta così come farà la Roma, perché la Roma è una squadra che preferisce cedere quasi volutamente come la Juventus il pallino del gioco agli avversari per poi provare ad andare un po' tra le linee, un po' di inserimenti, un po' di velocità sono due squadre differenti per come sono costruite e allenate, Juventus e Roma, ma che hanno molto in comune tra l'altro c'è anche un film speciale tra i due allenatori, Max Allegri e Giuseppe Mourinho che hanno parlato molto bene l'uno dell'altro nelle conferenze stampa legate alla vigilia che dire, vedo che poi il risultato dell'Inter abbia creato ulteriore aspettativa su questo match non potrebbe essere altrimenti, perché vincere significherebbe rosichiare due punti nerazzurri ed essere attaccati lì all'altissima quota per iniziare nel migliore dei modi il 2024 però l'invito è sempre lo stesso, pensare a se stesso, al proprio ricammino, ai propri limiti, ai propri pregi a come cercare di alzare il livello del proprio rendimento ma è un'opportunità di otta, sì, sicuramente il mezzo passo falso dell'Inter a Genova crea, secondo me, anche ulteriori motivazioni sebbene, a prescindere, credo che Juventus-Roma è una gara che si prepari da sola cioè, sono queste le gare per cui uno vuole giocare contro avversari di livello quando c'è un po' di Pepe quando vedi che dall'altra parte c'è Giuseppe Mourinho e mi aspetto a proposito di Pepe che l'accoglienza per lui oggi sia delle più calde e dall'altra parte ogni volta che Mourinho viene all'Allianz vedi Juventus-Manchester-United succede di tutto quindi bisogna stare molto tranquilli, lucidi con la volontà di non rovinarsi la fine dell'anno ma bisogna anche considerare poi lo spessore degli avversari non è sempre facile noi la facciamo molto, molto facile ma Juventus-Roma è una partita tostissima guai a sottovalutarla guai a pensare che la sconfitta dell'Inter porta automaticamente la Juventus a essere la netta favorita di questo incontro magari la classifica può dire questo ma quante partite sudate abbiamo visto la Juventus portare a casa durante questa stagione tantissime in casa, fuori quindi c'è quel massimo rispetto per l'avversario poi vediamo come va il match ma ho sentito le parole di Acerbi che ha detto ma la Juventus nel tempo ha speso 200 milioni per Bremer, Chiesa e Vlaovic noi dovremmo dominare il campionato e loro no ne parliamo poi domani ne parliamo poi domani perché è giusta questa chiave di lettura sicuramente da Juventus è effettuato degli investimenti onerosissimi ma non dobbiamo nemmeno dimenticare che nell'ultima sessione di mercato ad aver acquistato Frattesi Pavard Sommer è stata l'Inter non la Juve i biancorreni non hanno fatto mercato non hanno potuto fare mercato per i motivi che ben conosciamo quindi le analisi andrebbero fatte sempre con maggiore lucidità ma ne parliamo domani di Acerbi ora testa con le gambe tutti gli ingredienti rivolti a Juventus Roma vi do come sempre appuntamento per coloro che bazzicano attorno allo stadio in zona gate B verso le 18, 18 e 30 sono sempre lì con i colleghi pronti a fare due chiacchiere mi fa enormemente piacere incontrarvi in questo caso ci facciamo anche anticipatamente gli auguri con l'ospicio che il miglior brindisi arrivi dal triplice fischio di Juventus Roma ma come sempre per analizzare quello che sarà stato l'esito del match vi do appuntamento appunto al post gara se vi è piaciuto questo video lasciate un bel like è scattato ve lo dicevo è scattato il 900 che si associa a quota 76.000 quindi i 77 sono là io ci credo credo di poter centrare questo obiettivo entro proprio tra oggi e domani mettiamola così ho bisogno di voi per farlo perché siete il cuore pulsante di questa community e proprio coloro che mi spalleggiano quotidianamente per questo vi ringrazio enormemente ecco darsi degli obiettivi sempre essere ambiziosi sempre come lo dovrà essere la Juventus questa sera contro la Roma